Grazie, svegliatevi per favore. Ricominciamo dal territorio. Io sono Kettin Creta, presidente provinciale di Fiaipasti, una fra le più piccole province d'Italia della Fiaip. Allora voglio parlarvi subito di Camera di Commercio. Fino alla settimana scorsa io volevo mettergli una bomba dentro, chiuderle, farle chiudere. Quando dicono di chiuderle io ero molto favorevole, però mi hanno detto che bisognava comunque cercare di entrarci in Camera di Commercio. Allora ho fatto stalking al nuovo presidente che è stato eletto e dopo avergli fatto stalking ci sono riuscita. Dall'incontro sono uscita anche abbastanza delusa perché il presidente della Camera di Commercio mi ha detto che degli abusivi non gliene importa niente perché è un problema della magistratura. E quindi sono uscita lì un po' abbacchiata. Però di lì a poco c'era un forum dove partecipavano tutte le categorie iscritte alla Camera di Commercio e alcune istituzioni locali. Visto che sono un'apri porta come agente immobiliare non sono entrata dalla porta, sono entrata dalla finestra e mi sono inserita in questo forum. In questo forum, come dicevo, è stato comunque molto interessante perché c'erano tutte le parti sociali e poi la nostra zona è una zona che è diventata patrimonio dell'UNESCO di recente. E tra freggiarsi del titolo e non sapere cosa fare perché a livello diciamo locale praticamente c'è un po' di campanilismo come c'è in tutte le città, non se ne esce, quindi non si riesce a fare promozione. Però fortunatamente la Camera di Commercio ha preso questa iniziativa e quindi ha fatto aderire tutti. Si parlava di UNESCO ma si parlava anche di lavoro, si è parlato di povertà, è intervenuto anche il Vescovo. E di come fare per rilanciare l'economia del territorio? C'erano molti spunti. Lo spunto principale è la bellezza del territorio che è diffusa. Ringrazio Firenze, Firenze ha delle analogie con noi della provincia di Asti perché ho scoperto che i clienti mi hanno detto Monferrato is closer to Firenze e also to Venezia. Allora appunto ci sono delle idee, intanto ringrazio Firenze per l'accoglienza. Comunque tornando al discorso turistico, appunto gli stranieri percepiscono le distanze da una città all'altra in maniera molto diversa da noi, quindi si può far lavorare tutti quanti i territori. E in Piemonte ci si unisce anche ovviamente alle amministrazioni pubbliche, per cui stanno nascendo dei progetti che riguardano anche l'immobiliare perché riguardano la demolizione condivisa dei capannoni industriali per valorizzare il territorio. E quindi si fanno tutte queste iniziative perché l'ecologia, il rispetto del territorio, è un patrimonio dove può lavorare anche il settore immobiliare. Detto questo bisogna comunque avere coraggio perché queste specificità non sono internetizzabili. Mi riprendo la parola perché dovevo ringraziare Sabrina Cancellieri perché il progetto Fiaib Donna non se l'è considerato nessuno, mentre il progetto Fiaib Donna è molto importante perché soprattutto nei territori, diciamo patrimonio dell'UNESCO, eccetera, si possono prendere dei fondi per l'internazionalizzazione delle aziende e per cui sposiamolo e condividiamolo.